2 minuti e 30 secondi alla prima pausa di giornata, vedete dal tabellone 188 giocatori ancora seduti ai tavoli quando i bui sono già saliti a 100-200. Ne approfitto anche per inquadrarvi in questa nuova sala del casino di Portomaso che è stato allargato in questo ultimo periodo. Vedete anche le finiture alle pareti che rendono molto caldo questo ambiente all'interno del quale sicuramente è bello passare qualche ora a giocare a poker. Vi ricordo anche comunque la struttura del torneo per quanto riguarda la pausa cena che prevede da questo un momento in poi, ovvero fra 1 minuto e 45 secondi, lo stop per i tavoli dall'1 al 10 per la pausa cena, nel frattempo gli altri tavoli giocheranno il quinto livello di giornata, dopodiché ci saranno gli altri tavoli fermi per la pausa cena mentre invece i tavoli dall'1 al 10 recupereranno il quinto livello per poi ricongiungersi tutti quanti fino alla fine della giornata. Noi ci diamo appuntamento i prossimi aggiornamenti della sala, come sempre pokeritaliaweb.org e buon poker a tutti, ciao!